Procediamo allora adesso con la cerimonia di conferimento delle lauree, procedo alla chiamata di ciascuno dei laureati, cominciando da Sanal Abraham. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Lorenzo Barberis, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e l'onore della Lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Anna Bassi Detoni, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la Lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Emanuele Birocchi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la Lode. La proclamo pertanto dottore in medicina e chirurgia. Mattia Brigida, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Mattilde Bruno, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata alla tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Giuseppe Amir Campanale, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Daniele Caretti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Andrea Carfi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Chiara Caricato, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Margherita Conti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Margherita Conti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Antonio Creti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Gemma Eftimiadi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Federica Giordano, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Marta Goglia, la Commissione, valutato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Chirvi Indoccia, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Gianmarco Iccarino, Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Maria Concetta, la Milia, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Antonella Maino, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Maria Mannino, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e la lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Riccardo Mazzara, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Federica Milani, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Nasma Natfaji, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Filippo Paoletti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Giussi Pisano, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Pierenzo Pozzi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Pierenzo Pozzi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Pierenzo Pozzi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Pierenzo Pozzi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Paola Romeo, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Gabriele Rossini, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Maria Francesca Russo, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Giorgia Antonia Simboli, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Filippo Mario Topa, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Alice Villa, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. E la lode. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Matteo Bernard Valen, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Alessandra Zappalà, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, e valutata la tesi di laurea, e attribuisce alla prova finale la votazione di 109 su 110. La proclamo pertanto dottore magistrale in medicina e chirurgia. Bene, in conclusione, diventando medici, come vi è noto, c'è il giuramento di Ippocrate, che adesso verrà letto. Nel dubbio, essendo un corso in Italia, in inglese, non sapevamo in che lingua svolgerlo, e allora abbiamo deciso di andare sul filologico, sempre a dimostrazione del fatto che, come ci ha spiegato il professor Ticocinski, le tecnologie procedono, cambiano il modo di svolgere l'attività medica, ma l'uomo è sempre quello, la relazione tra chi soffre e chi lo deve curare è sempre la medesima, e i valori sono universali e immutabili. Speriamo, anzi siamo certi, che a questi saprete attenervi nel corso della vostra vita professionale. Allora credo alla dottoressa Laura Toresani di voler leggere il giuramento di Ippocrate. Possiamo accomodarci. Grazie a tutti. Esas saimen ton didaxantame, tentec nentauten isagenetesin e moisin, caibiu coinosas sai, caicreon creizzonti metadosin poiesas sai, caigenos toec su teu adelfois ison epicrinein, arresi caididaxein, tentec nentauten encrezosi mantanein, aneumis su, cai syngrafes, parangeiles tecai acroesios, caites loipes apases matesios metadosin, poiesas sai uioisite e moisi, caitoisi tue medidaxantos, cai matetaesi, syngregrammenoisi tecai, ocrismenois nomo ietricò, allo de udeni. Di aite masite crezomai, epofeleie cam nonton, catadynamin, caicrisine men, epidelesei, decai adicie eercsein. Udozo deude, farmacon udeni aite teis, tanasimon, udofegesomai, cymbolien toiende. Omoios deude, gunaicipes son, phtorion dozo. Agnos decai osios, diatereso bion tonemon, caitecnen tene men. Ute meo deude, men litiontas, encoreso de ergatesin, andrasin prexios tesde. Es oicias, deocosas anesio, es eleusumai, epofeleie cam nonton. Ectoseon, pazes adicies, ecusies, caiftories. Teste alles, caiafrodision ergon, epitegunaiceion somaton, caian dron, eleuteron, te caidulon. Adanen, terapeie eido, e accuso, e caian eu terapeies, catabion antropon. Ame crepote, encaleestai exo. Sigesomai, arreta, egeumenos, enai, tato iauta. Orcon men un moi tonden epitelea poieonti, caimex sui neonti. Eie paurastai, caibiu, caitecnes, doxazomeno, para pasin antropois, estona iei cronon. Parabainonti decai e piurcunti, tanantia tuteon. Grazie.